E la lunga notte delle stelle è arrivata perché questa sera il cuore di Pescara accoglierà i volti più amati del grande e del piccolo schermo, del palcoscenico e dell'informazione che appunto si ritroveranno in piazza Salotto a Pescara per ricevere il Pegasodoro. L'evento conclusivo quindi della 51esima edizione dei premi internazionali Flaiano sarà trasmessa in diretta su Reteotto a partire dalle ore 19.30 di questa sera con interviste esclusive ai protagonisti della serata che anticiperanno la cerimonia di premiazione per le sezioni di cinema, televisione, teatro e giornalismo che si svolgerà in piazza Salotto come dicevamo a Pescara a partire dalle 20.30. I premiati erano già stati annunciati nei giorni scorsi dalla presidente dei premi Carla Tiboni. Il galà sarà trasmesso in diretta da Reteotto a partire dalle 19.30 sul canale 10 del Digitale Terrestre e in streaming su www.reteotto.it. Tra i premiati Miriam Leone, Claudio Bisio, Michele Riondino, Pif, Antonio Albanesi, Teresa Mannino, Neri Marco Re, Giovanna Mezzogiorno e Paolo Rossi. L'apertura della diretta come dicevamo alle 19.30 sarà condotta dal direttore Carmine Perantuono e da Gigliola Edmondo con l'ausilio del comparto tecnico di Reteotto. Appuntamento dunque da non perdere.